Benvenuti o ben ritrovati amici a Passione di Fotografia, qui Matteo Berardi e anche quest'oggi un altro episodio del nostro nuovo format video Edito le tue foto Se ti fossi perso la prima puntata la puoi trovare qui in alto o andare sul nostro canale YouTube nel quale vedrai tutti i video che diamo appunto sulla fotografia d'iPhone se non lo sapessi già questo nuovo formato video e sostanzialmente prendo le tue foto e le vado a editare con il mio gusto personale la mail al quale inviare le vostre foto è edito le tue foto chiocciolagmail.com e mi raccomando ci serve il file originale e non quello già editato da voi vi chiedo anche magari di andare a scrivere qualcosina all'interno della mail quindi tipo una descrizione di inserire con quale iPhone è stata scattata questa immagine e magari anche di inserire il vostro profilo Instagram ma ora iniziamo Questa prima foto che ci ha mandato Razvan Bosingianu perdonami se non ho pronunciato il tuo nome correttamente ci ha mandato questa foto di questa bellissima coccinella che è riuscito a ritrarre forse probabilmente sul suo tavolo di casa non lo so dov'era però ha creato diciamo questa appunto differenziazione mettiamola così tra la destra dell'immagine e la sinistra dell'immagine dove ci sono appunto due colori differenti onestamente non so come è stato possibile è molto gradevole all'occhio questo effetto quindi Razvan se ci vuoi dire come hai fatto comunque scrivicelo qua sotto sui commenti la prima cosa quindi che andiamo a fare è cercare di ritagliare di ruotare un po' l'immagine per andarla come sempre a migliorare poi utilizziamo sempre il nostro magico pennello su Snapseed per andare a enfatizzare la nostra coccinella un po' di più utilizzandogli un pochino più di saturazione e un pochino di esposizione in più come sempre in questo caso non bisogna fare un lavoro tipo super certosino certo non è che bisogna insomma fare così con il telefono e tutto a posto ovviamente bisogna cercare di assecondare i contorni di ciò che vogliamo enfatizzare enfatizzare non andando troppo oltre il contorno ma neanche troppo all'interno del nostro contorno cercare di fare un lavoro fatto come si deve ma non è che deve essere super preciso insomma comunque in ogni caso meglio rimanere dentro il contorno che fuori il contorno quindi poi fatto questa operazione già la foto è notevolmente migliorata e andiamo quindi ad importarla su Lightroom per andarla quindi a modificare con uno dei nostri preset e per quindi dargli gli ultimi tocchi finali quindi come sempre apriamo la nostra cartella di preset per questa foto specifica non so di un preset che ci starebbe al 100% bene quindi bisogna un pochino andare a fare dei test e delle prove per vedere qual è il migliore alla fine scelgo questo qui questo doggy che tra l'altro voglio farlo presente questo è un preset che ho creato su una foto appunto di un cane appunto l'ho chiamato doggy questo preset però per farvi capire che ho creato questo preset su una tipologia di foto che tra l'altro era abbastanza diversa da questa qui ma comunque si è adattata alla perfezione a questa foto stessa quindi come sempre i preset non sono qualcosa che vanno bene per tutte le foto ma neanche che vanno bene per una sola foto specifica come sempre quindi dopo aver impostato il nostro preset cerchiamo di andare a migliorare ulteriormente la nostra immagine dando più dettaglio appunto su di essa contrastando andando a mettere del contrasto andando aumentare i neri di questa immagine qui come sempre cerchiamo comunque di fare dei test sui vari cursori per vedere se stiamo effettivamente migliorando la nostra immagine oppure no andiamo poi anche a fare a lavorare un pochino anche sui colori per andare a enfatizzare questo rosso arancione di questa coccinella e infine ora io sto utilizzando questo comando qui su Lightroom ma c'è su Snapseed se non avete la versione a pagamento di Lightroom Mobile quello che sto andando a fare quindi sostanzialmente è scurire la parte destra della nostra immagine perché era un pochino troppo evidente un pochino troppo luminosa e quindi voglio cercare di scurire togliendo un po' di saturazione appunto solamente dalla parte destra della nostra immagine perché se l'avessi fatto con tutte le immagini sarebbe desaturata ad esempio anche la coccinella e non era quello che volevo quindi questo è il risultato finale ragazzi di questa prima foto di quest'oggi Razzpan veramente un bellissimo scatto hai fatto e io l'ho semplicemente migliorato un pochino ma avevi già fatto un grandissimo lavoro tu complimenti questa seconda foto invece ce l'ha mandata Anna Gentile di questi particolari fuochi d'artificio è una foto un pochino diversa dalle altre che abbiamo visto in precedenza e probabilmente anche di quelle che vedrete in futuro non verrà modificata non si riuscirà diciamo a modificarla tantissimo perché è un JPEG le foto notturne in JPEG non possono essere modificate poi così tanto però sicuramente il nostro obiettivo è quello di andarla a migliorare quindi la prima cosa che vogliamo andare a fare è cercare di espandere già che possiamo per questa immagine visto che tanto poi al di fuori del nostro fuoco d'artificio centrale è tutta quanta nera l'immagine e quindi sicuramente possiamo andarla ad espandere per andare a dare più pixel appunto a questa a questa immagine poi quando andiamo ad espandere a utilizzare lo strumento espandi ovviamente ci sono sempre dei piccoli errori che andremo a correggere e dopodiché vediamo se questo fuoco d'artificio è perfettamente centrato dopodiché importiamo come sempre la nostra foto su Lightroom cerchiamo un preset che faccia al caso nostro e che dia un miglioramento netto alla nostra immagine facciamo come sempre un pochino di test ma sicuramente il migliore è questo Blue Shock che in realtà era stato ideato per totalmente un'altra foto ma anche per questa foto va benissimo ora come sempre diamo un pochino di regolazioni alla nostra immagine andando come sempre a contrastarla a me piacciono le immagini con un alto contrasto magari a qualcun altro forse piacciono le immagini con meno contrasto come se ci fosse una patina davanti mentre a me invece piacciono le foto sempre molto contrastate come sempre questo è il mio gusto personale vi può piacere, vi può non piacere ma comunque è il mio gusto personale come vedete sono qui in natura ci sono mosche che svolazzano ovunque andiamo sempre a giocare un pochino con i cursori in questo caso sto giocando con il cursore della temperatura per andare sempre un pochino ad apportare di miglioramenti la nostra immagine possiamo giocare insomma con il cursore di vividezza magari con quello del contrasto, dei neri, dei bianchi insomma quello che bisogna fare dopo aver utilizzato un preset è di andare a migliorare la foto per quanto possibile con i vari cursori che Lightroom ci mette a disposizione e poi alla fine andare a fare anche un po' di color grading quindi andare a cercare di migliorare tonalità per tonalità e di enfatizzarla o non enfatizzarla di andarla a saturare o desaturare dipende un po' ovviamente dall'immagine che abbiamo per dare appunto sempre il nostro tocco poi personale all'immagine andiamo a dare poi un po' di chiarezza e un po' di nitidezza per andare appunto a enfatizzare sempre di più la luce di questo fuoco d'artificio e questo è il risultato finale ragazzi insomma uno scatto molto particolare, uno scatto molto bello che siamo riusciti ad andare sicuramente a enfatizzare rispetto all'immagine iniziale non un grandissimo cambiamento ma un netto miglioramento la terza foto di quest'oggi che andiamo a editare ce l'ha mandata sempre Paola Marchio devo dire che la sua bimba è sempre bella in qualsiasi foto che ci manda e andiamo a vedere come vado ad editare questa foto come sempre la prima cosa da andare a fare è cercare di trovare un ritaglio migliore alla nostra immagine soprattutto se in fase di scatto magari potevamo fare un pochino meglio però per qualsiasi motivo non ci siamo riusciti e quindi si va ad utilizzare lo strumento ritaglia la seconda cosa che andiamo a fare come abbiamo già fatto in altre foto è andare a enfatizzare delle piccole parti dell'immagine come gli occhi di un ritratto e andandoli a saturare e a portare l'esposizione un pochino più alta per renderli più evidenti poi in questo caso la bambina insomma ha bellissimi occhi quindi se li andiamo a enfatizzare ancora di più è sicuramente molto meglio nel mentre qua ragazzi stanno passando tipo autostrade di vespe, api, di tutti i tipici ne sono qui andiamo a correggere anche questo piccolissimo difettuccio ma giusto così perché vogliamo fare i precisini della situazione altronde sono un verginello quindi sono sicuramente molto preciso e andiamo a importare la nostra foto sul Lightroom ora qui come sempre cerchiamo un preset che faccia al caso nostro ce ne sono diversi che possiamo utilizzare e ce ne sono diversi che rendono veramente bene sulla nostra foto ad esempio c'è questo qui dramma freddo che fa venire fuori dei colori molto accentuati tendenti sul verde può piacere può non piacere nel mio caso cerco un preset che dia un tocco in più a questa immagine ma non è che la stravolga completamente ovviamente come sempre si può cercare il nostro preset in questione anche su altre cartelle quindi che non riguardano strettamente i ritratti dopo una lunga ricerca quindi vado ad utilizzare questo preset Raggi del Sole che mi migliora sicuramente la foto, non me la va troppo a stravolgere e mi va benissimo così perché adesso ci vado a lavorare sopra come sempre come molti di voi ormai sapranno mi piacciono le foto contrastate quindi vado a darci più contrasto vado un pochino a mettere i bianchi sulla foto a enfatizzare anche i neri andiamo poi a zoomare sul volto della bambina o comunque ecco sulle foglie di figo per andare a vedere fino a dove ci possiamo spingere con la nitidezza prima che diventi abbastanza evidente il rumore fotografico andiamo a un pochino giocare perché io chiamo sempre giocare perché per me è un gioco andare a editare le foto in realtà andiamo un pochino a giocare con le varie tonalità per rendere la nostra foto migliore sotto il nostro tocco personale e quindi ragazzi questo è il prima e questo è il dopo a mio modo di vedere un netto cambiamento che va a enfatizzare molto di più la bellezza di questo scatto quindi come sempre grandissima Paola bellissimo scatto e bellissima bambina e passiamo alla prossima immagine questa immagine della nostra mucca ce la manda Matteo Castellini ti ringraziamo per averci mandato questa immagine e incominciamo quindi ad andare a editare quindi la prima cosa che andiamo a fare sempre è ritagliare la nostra immagine ed eventualmente ruotarla se pensiamo che ce ne sia bisogno come sentite sono le sette ci sono le campane adesso attendiamo che faccia sette rintocchi ha finito fortunatamente a questo punto poi fatte diciamo le nostre modifiche ritagliando la nostra immagine e ruotandola importiamo come sempre su Lightroom andiamo a trovare un preset che faccia al caso nostro anche qui non è che ce n'è uno che sia perfetto che magari risponda perfettamente alle nostre esigenze in questo caso ho utilizzato un preset interno luminoso che è stato creato in realtà per degli interni però ovviamente la mucca magari stando all'interno di un posto di un luogo dove stanno le mucche non lo so dove stanno le mucche di una stalla forse sì forse il nome giusto è stalla magari per una questione di colori di luminosità e quant'altro ci stava bene anche questo preset come vedete a volte rimango stupito anch'io di quale preset va bene per l'immagine ora a questo punto selezionato il nostro preset andiamo a migliorare come sempre la nostra immagine cercando di lavorare sui contrasti sulle ombre sui bianchi e quant'altro dopodiché andiamo anche a lavorare sui colori cercando di enfatizzare o di non enfatizzare determinati colori all'interno della nostra immagine e andiamo a lavorare anche un po' con la nitidezza cercando di non esagerare di non far uscire fuori troppo rumore digitale per rendere più nitida la foto diciamo il muso di questa mucca è questo quindi ragazzi il risultato finale che cosa ne pensate? quindi ragazzi anche quest'oggi siamo andati a modificare queste quattro foto secondo il mio gusto personale come sempre questo è il mio gusto personale queste foto diciamo come ho modificato queste foto vi possono anche non piacere se così fosse scrivetecelo qui sotto sui commenti e magari diteci quello che avreste fatto di diverso se ti è piaciuto questo video mi raccomando mettici un bel pollicione in alto come segno d'apprezzamento ed iscriviti subito in basso qua al canale su tutti gli altri social come ad esempio Instagram oppure sulla nostra community Facebook così potrai partecipare al nostro contest fotografico da iPhone la fotocamera dell'iPhone a primo impatto sembra davvero semplice da usare ma sai quando invece incominci a conoscerla più a fondo scopi che ha tantissime potenzialità nascoste di cui non ne conoscevi l'esistenza e ti faccio una domanda ora vuoi riuscire a scattare queste foto anche tu? se vuoi apprendere quindi tutti i segreti che si c'erano dietro le mie fotografie per iPhone ti invito ad iscriverti al corso 100% gratuito da zero a fotografo iPhone che abbiamo sviluppato proprio per farti compiere il primo passo per diventare un fotografo iPhone migliore all'interno di questo corso di tre lezioni troverai tantissime informazioni utili che migliorano sensibilmente la tua fotografia quindi cosa aspetti? iscriviti subito al corso gratuito trovi il link qui in basso nella descrizione ci vediamo sul prossimo video e ricorda che la miglior macchina fotografica è quella che è sempre con te è sempre con te